Mistero sul luogo in cui si trovi in queste ore Viktor Yanukovych, il presidente ucraino dichiarato decaduto e abbandonato dai compagni di partito. Le immagini di elicotteri che lasciano il suo eliporto privato a pochi chilometri da Kiev lo scorso venerdì fanno supporre gli scenari più disparati. L'ipotesi sia volato nel golfo e quella più originale, ma gli Emirati Arabi Uniti hanno smentito e persino girata voce abbia cercato di corrompere le guardie di frontiera per lasciare il paese. Resta comunque probabile possa essere stato accolto dagli alleati politici in Russia o in Bielorussia. L'unica immagine recente dell'ex presidente è quella del video in cui parla di colpo di Stato e definisce illegittimo il nuovo Parlamento di Kiev. Le ultime notizie lo danno nascosto nel suo feudo elettorale a Est, Kharkiv, in quell'Oriente a lui fedelissimo. Sabato l'aereo che lo trasportava non ha avuto il permesso di decollare dalla città natale di Donetsk, nell'est dell'Ucraina.